Da messinese a greco, da consulente ad esperto. Ma non le sembra di cavalcare un po' un'incorrenza politica? Allora, questo è un tema che ho molto piacere di esternare. Io ho una passione civica. Quando si parla di passione civica mi rendo conto che viene un po' complicato comprenderlo. Significa che si prescinde dalla tessera di un partito. Io infatti non ho mai avuto una tessera di un partito. Anzi ad onore del vero, forse una quindicina d'anni fa, con l'avvocato Ventura che è un mio parente e per una questione familiare. Ma non ho mai avuto una tessera di partito e questo riprova del fatto che il mio non è un intervento in politica da politico, da partito politico, ma da tecnico. E questo spiega che quando c'è il sindaco messinese io intervengo da tecnico. Quando c'è il sindaco greco intervengo da tecnico. Quando mi candido a sindaco, e questa è la storia, lo testimonia, io non faccio accordi con nessun partito politico. Io non accetto di essere candidato da nessun partito politico. Per cui il mio partito politico è questo e ti ringrazio per la domanda perché mi serve a dare una chiarificazione che per me è importante di coerenza, dà un chiaro segnale del fatto che la coerenza c'è tutta ed è definito in una parola, anzi in due parole, passione civica. Sicuramente oggi c'è una certezza. Lei è l'esperto per quanto riguarda quattro settori importantissimi, sviluppo economico, sport, cultura e turismo. Quali le criticità e quali le sue proposte? Ho già inoltrato al sindaco un atto di indirizzo politico-economico che a mio avviso potrebbe essere la prima pietra per poter operare un rilancio forte in questo territorio. Io penso che la città in cinque anni, lavorando in sinergia, potrebbe essere veramente trasformata e rilanciata. Ma questo indirizzo politico deve essere sostanziato innanzitutto attraverso una cabina di regia perché una delle criticità fondamentali che emergono sul territorio è che è come se si operasse a compartimenti stagni. E rispetto alle varie problematiche presenti sul sistema, tra cui e tra le altre cito ad esempio il deficit delle risorse all'interno del comune, che sono pochi, piuttosto che le difficoltà che ci sono nei vari settori perché la forza comunale si è ridotta tantissimo. Quindi sono tutte delle criticità che vanno compensate. Io penso che lo strumento di un'agenzia per lo sviluppo del territorio potrebbe essere ed è un modo per compensare queste criticità. Immagino un'agenzia che possa captare e agevolare la ricezione di tutti questi finanziamenti pubblici da una parte ma nel contempo che passando da dei percorsi di semplificazione amministrativa e di abbattimento della burocrazia possa sviluppare tutti i finanziamenti dei privati perché fino ad oggi gli imprenditori a Gela sono stati considerati direi come degli appestati. Cioè nel senso che chi vuole creare lavoro non viene accompagnato e agevolato. È come se dovesse fare qualcosa di sbagliato. Così non è. E allora questa cabina di regia importante, questa agenzia, uno sportello antiburocrazia, uno sportello informativo per le imprese tutte inserite all'interno dello sviluppo economico potranno determinare veramente una macchina di fuoco per produrre occupati in questo territorio che oggi purtroppo vive un momento veramente nero ovviamente subordinato alla crisi pandemica ma a prescindere veramente nero.